In Italia l'industria culturale dà lavoro a un milione e mezzo di persone, un settore che vale 70 miliardi di euro e corrisponde al 5,7% dell'occupazione nazionale. Quindi non siamo in pochi. Di questo milione e mezzo noi siamo gli artisti, interpreti e esecutori, ovvero più di 70.000 persone. Attori, cantanti, ballerini, direttori d'orchestra. Doppiatori. La legge obbliga gli utilizzatori delle nostre opere, ovvero le televisioni che mandano in onda i nostri film, a versare una quota del ricavato agli artisti che hanno lavorato in questi film. Nel 1977, allora, per iniziativa dei sindacati, nasce Limaie, istituto mutualistico artisti, interpreti ed esecutori. Tutti conoscono la CIA che tutela i diritti degli autori, mentre Limaie protegge i diritti degli artisti che lavorano con la propria immagine. Con la propria faccia. Oltre a tutelare i diritti degli artisti, ha il compito di erogare fondi a sostegno di iniziative e progetti culturali. E questo è il punto in cui ad alcuni viene da ridere. E a tanti viene da piangere. Perché Limaie è sostanzialmente un monopolio privato, fondato dai sindacati e sotto il controllo prima di uno, poi di due, poi di tre ministeri, e infine anche sotto il controllo della presidenza, nel consiglio dei ministri, non funziona come dovrebbe. Moltissimi artisti non ricevono neanche l'ombra dei compensi che dovrebbero ricevere. I soldi entrano, ma non escono. A un certo punto la Procura di Roma avvia delle indagini su Limaie. E il Ministero dei Beni Culturali chiede una relazione. La chiede però al Collegio dei Revisori dell'Limaie stesso. Quindi, quei revisori, quelli cioè stipendiati, per analizzare e certificare sistematicamente i bilanci, all'improvviso, dopo anni, si accorgono che Limaie non funziona come dovrebbe. Il Ministero decide che Limaie deve essere sciolto e trasferisce tutto nelle mani del prefetto di Roma, il quale nel 2009 decreta l'estinzione dell'istituto. Il Tar si oppone, sostenendo che non va abolito Limaie, ma le cause per cui non funziona. Però il Consiglio di Stato ne conferma l'estinzione. Pollice verso. A morte Limaie. Ora noi abbiamo le nostre responsabilità. Mentre qualcuno studiava il modo di violare i nostri diritti, noi che facevamo? Ma torniamo un attimo sulla vicenda. Nel 2007 un Revisore dei Conti dichiara Limaie è un istituto sano che funziona. Nel 2008 lo stesso Revisore scrive una relazione per il Ministero dei Beni Culturali diametralmente opposta. E il Ministero la gira al prefetto di Roma. Il prefetto chiede alla Guardia di Finanza di accertare le cose al fine di prendere in considerazione una procedura di estinzione dell'Imaie. Perché dicono che moltissimi artisti sono talmente irraggiungibili che è proprio impossibile scovarli e versargli il dovuto. La Guardia di Finanza scrive di una rilevata esistenza di parentela tra esponenti dell'Imaie e di una presunta truffa aggravata ai danni dell'istituto. Ma soprattutto dichiara che bisogna lasciar lavorare la polizia giudiziaria che sta infatti indagando sulla vicenda prima di arrivare allo scioglimento dell'Imaie richiesto dal prefetto. Ma il prefetto non vuole aspettare. Nell'aprile del 2009 l'istituto viene estinto per assoluta incapacità dell'ente a perseguire i suoi scopi istituzionali. In quel momento nelle casse dell'Imaie sono fermi oltre 130 milioni di euro. Ma subito dopo i commissari liquidatori dichiarano che il passivo supera l'attivo. Perché improvvisamente sono comparse schede per oltre 70 mila artisti creditori. Ma se 70 mila artisti erano rintracciabili, perché estinguere l'Imaie? E se invece non lo erano, da dove sono sbucati? E perché l'Imaie è stata dichiarata in passivo? In ogni caso perché cancellare l'Imaie anziché farlo funzionare? Lo suggerisce il TAR, indicando le due cause principali del malfunzionamento. Una compagine gestionale inidonea E una legge inadeguata La risposta arriva ed è il blitz dell'aprile del 2010 quando tra le pieghe di un decreto legge che regolamenta le fondazioni lirico-sinfoniche il governo inserisce un articolo che prevede la nascita del nuovo Imaie confermando però di fatto al loro posto tutti i dirigenti e tutti i funzionari del vecchio Imaie. E il decreto parte tempestivamente come un siluro proprio il giorno prima che nel merito il TAR possa esprimere per la terza volta il suo parere dopo essersi opposto altre due volte all'estinzione dell'Istituto. Un decreto che viola i principi difesi della nostra Costituzione perché vuole imporre il nuovo o vecchio Imaie come unico esclusivo organismo designato a rappresentare i diritti degli artisti italiani che lo vogliano o no. Non vogliamo far parte della rigenerazione delle Imaie perché ci è bastato l'originale. È come se davanti a uno chef che avvelena tutti lo Stato decidesse aboliamo la ristorazione in Italia e poi promuoviamo questo chef come unico chef italiano. Ma un ente al servizio degli artisti è efficace soltanto se opera in regime di monopolio? Cioè se è l'unico ente riconosciuto in tutta Italia? In teoria no. In pratica, visti i risultati del passato, ancora meno. Noi produciamo cultura, almeno ce proviamo, e reddito. E stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Pensate quante cose si potrebbero fare in Italia con somme del genere se gestite con onestà, responsabilità e passione. Finora ci hanno impedito di guardare i conti delle Imaie che non dovrebbero essere segreti come la formula della Coca-Cola. E la magistratura ci dirà dove sono andati a finire i nostri 130 milioni. Ma quello che conta è che guardando al passato delle Imaie abbiamo deciso di occuparci del nostro futuro. D'ora in poi noi artisti gestiremo direttamente i nostri soldi creando una nostra società di raccolta e di distribuzione. Come nel resto del mondo dove operano diverse società di collecting al servizio degli artisti, dei loro diritti e delle loro iniziative. Tra l'altro sarebbe d'accordo anche la Commissione Europea. Abbiamo la forza di ottenere tutto questo. sapete perché? Perché abbiamo sufficienti competenze per farlo. il nostro Napoleone Medina Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info